Giovedì 15 ottobre scattano i divieti anti-smog per 700.000 automobili e camion più datati, a cui si aggiungono 57.000 motorini e ciclomotori che resteranno bloccati fino a metà aprile. Sono le nuove disposizioni del Pirellone che allarga l'area nella quale vengono fermati i veicoli più inquinanti. Le 12 ore di divieto della circolazione, dalle 7.30 alle 19.30 nei giorni feriali, per auto benzina Euro 0 e diesel Euro 0, 1 e 2, verranno allargati alla fascia gialla, vale a dire alla zona a basso impatto di emissioni. Si tratta di 361 comuni, divisi tra le province di Milano, Bergamo, Brescia, Varese, Como, Lecco, Monza e Brianza. Le sanzioni per i trasgressori variano dai 75 ai 450 euro, a seconda del tipo di veicolo pizzicato e non rientrante in quelli permessi dalla regione. La vera battaglia per il Pirellone sarà però contro l'inquinamento provocato dai 400.000 diesel Euro 3 che risultano essere molto inquinanti e che da soli sono responsabili di una quantità elevata di polveri sottili nell'aria. Su questo aspetto l'Europa da tempo insiste e la regione ora punta a bloccarli nei mesi più freddi del 2016-2017, anche se nulla su tal fronte è ancora stato deciso.